La sua posizione è quella della Regione Campania in merito al tema ricostruzione e condono per le aree terremotate di Ischia. Allora, la nostra posizione è stata riassonda in un documento molto chiaro che abbiamo presentato alla Conferenza delle Regioni e attraverso la Conferenza delle Regioni al Governo nazionale. Noi siamo perché venga approvata una normativa sulla ricostruzione. Ischia è priva di una normativa sulla ricostruzione. Ci sono delle norme raffazzonate che non servono a niente e che vanno sostituite con norme che definiscano che cos'è un piano di ricostruzione, chi lo redisce, chi lo approva e chi lo attua. Poi c'è il tema del contributo per la ricostruzione. Noi come Regione siamo stati contrari e siamo contrari a un papocchio che fu fatto recentemente quando fu estesa la valutazione delle istanze con il terzo condono, quello del 2003, sulla base dei parametri dei primi due condoni. Quello è un papocchio, una mostruosità giuridica. Ma questo non significa che i cittadini che legittimamente avevano fatto istanza in base alla legge 4785, primo condono, o la legge 72494, secondo condono, non debbano avere esaminate le loro domande e se quelle domande sono ammesse sulla base del parietà della sovrintendenza e delle valutazioni comunali, quei beni diventano beni legittimi e se sono legittimi devono essere ammessi al contributo. Questa ipocrisia nazionale contro Ischia che crea discriminazioni tra Ischia e le altre realtà del centro Italia per noi è uno scandalo e faremo una battaglia su questo assolutamente determinata.